Amici sportivi che ci seguite sulle pagine social del San Minato Basso, ci troviamo al campo sportivo Pagni, dove si affronteranno le squadre San Minato Basso e Belvedere. Sfida valida per la ventisesima giornata di campionato. Adesso le formazioni. Salmi, Veronesi, Zaccariello, Consonni, Ciolli, Blanchard, Bandini, D'Angelo, Tantone, Folegnani, Guazzini. A disposizione di mister Nicola Giallini, Pini, Pecciarini, Area, Barontini, Fregoli, Columbo, Marretti, Del Conte, Faenzi. Arbitra la partita il signor Norci di Arezzo, primo assistente Lazzereschi di Lucca, secondo assistente Notare di Siena. Con le immagini di Fabrizio Giannoni, servizio di Valentina Giovannetti, ecco a voi le immagini salienti del primo tempo. R per il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Il primo tempo della partita tra San Minato Basso e Belvedere si è concluso 1 a 1, ha segnato Blanchard al 25esimo e Remè di Luca al 41esimo. Con le immagini di Fabrizio Giannoni, servizio di Valentina Giovannetti, ecco a voi le immagini salienti del secondo tempo. Grazie per la visione! Grazie a tutti!